si fermerete e sfumerete questa parte qui ok te le spostate queste sono da lasciare per il momento faremo questo e questo ok questa sarà la linea da qui indietro sarà tutto molto corto come questa lunghezza qui della nostra riga da qui in giù sarà tutto molto corto qui ovviamente come vedete sto levando proprio pochissimo pelo alla volta con lo strippino cosa andiamo a fare la stessa cosa che farei con una forbice quindi pettiniamo tutto verso il basso e proprio facciamo il giro del piede a strippi finita la nostra mamma